Ciao a tutti ragazzi, io sono TBLACK GAME, bentornati a questo mio nuovo video. Oggi sono qui nella mappa carbon per mostrarvi i migliori posti, posti segreti ma non c'è nulla di segreti, sono i migliori nella mappa carbon. Allora, a parte vuol dire che i posti in questa mappa non ce ne sono tanti, i posti carini. Comunque possiamo subito iniziare dai pochi, se ci sono, in giungo di iniziare il più rapido possibile. Il primo per difendere la bomba B, o si può stare qui, però si abbastanza scoperti, oppure si può buttare su quel caschetto, abbassarsi a livello di questi cladini e essere molto più riparati, compiere la bomba B, stando molto più riparati. in giungo, al prossimo, passando all'interno dei B, potete coprire questo ingresso, se è difficile, in giungo di iniziare, ci può stare qui, o se comunque abbastanza scoperti, o qui, che è abbastanza coperto. Poi, il prossimo è questo, si potrebbe anche rimanere in giro questa scatola, così quando uno entra, diciamo, non vi vede, potete subito sfarare, infatti, guardate qua come entra, lo vede, e l'avete troppo, e poi avete sfarato. Poi, in questa stanzetta, su questo pitch, questo posto è abbastanza carino. Poi, posso stare qui sopra, è molto più utile, non io non di questa possibilità, ma in modo di vista come, non lo so, dominio, incluso, spesso, sono, proprio non c'erano, non l'ho trovato come c'erano dominio, comunque da questo posto può essere abbastanza filo dell'asse, e ci sono abbastanza coperto, perché il cladini o brano è necessario vedere i nemici, come per difendere la bomba, non ci sono tanti posti, uno, uno dei pochi, questo, qui, qui, qui sopra, si è abbastanza coperti da questa colonna, l'indice, di semplice scoperto, ma ovviamente la bomba va molto bene, successivamente c'è questo, ma non è molto utile, si è coperti dal tubo, si può vedere con la porta che sembra piena, sempre piena di nemici, poi c'è questo, per rimanere sopra questo, quella, 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 qui, quale sia, per vedere la mappa, abbastanza dall'alto, poi, anzi, torniamo qui, per controllare il B dall'alto, a volte che il nemico ha piazzato, potete rinco a sopra, saltare, e vedete, potete vedere molto bene la bomba a B, vedere chi piazza, per controllarla anche da lì, oppure, e per beccare le persone in fondo, per vederle molto bene, è questo, saltare sopra questi bidoni, così magari con predatore, con tutti da assalto, vedete molto bene, come entrare qua dentro, più abbastanza più di nemici, saltare sopra questi, su questi furgoni, questi contene, sono un posto di scottine, perché, hanno dato poi una storia quando ho detto così, ed è il video, allora, gli sarò molto riparati, anche essere a filo, di vedere bene, gli vedo anche di dar molto bene, un posto abbastanza carino, poi, uno degli ultimi, o probabilmente l'ultimo a questo, salta qua sopra, scherzo, schifo, e si può vedere abbastanza bene da sotto, cioè da schifo, e non c'è niente di ricarire questa mappa, ovviamente, infatti, anche di là non c'è nulla di carino, quindi, anche in B, se potete vedere abbastanza bene là, anche in B, un pochino di ingresso, ma niente, comunque, ragazzi, per oggi è tutto, spero di venire togliato, anche se il video, cioè, non c'è niente di carino, però, magari possiamo tornare più utile, niente, lasciate un mi piace, se è il video vi è piaciuto, e al prossimo video!